Lemisi, Lemino, Lemina! Ciao a popolo bruciacchiato qui, Gilles! Il Correre Sampdoriano! Notizia bomba ragazzi! A quanto pare, tutto nelle ultime ore. Candreva alla Salernitana e alla Samp arriva incredibile ma vero, Lemina! L'ex Juventus piomba la Samp come un avvoltoio su Lemina e c'è questa prospettiva. Allora, interessante perché comunque un discreto giocatore, le qualità ce le ha, c'è però da dire che ha una gran testa di cazzo. Manca molto di continuità perché i piedi sono buoni. Non sono piedi alla Tosby che sono mischiati destro col sinistro e sopra col sotto. Però c'è da dire che già da diverse settimane al Nizza non lo volevano più perché c'era un problema in interno con lo spogliatoio e quindi valutavano altre opzioni. Secondo me, oddio, se il giocatore non pretende chissà cosa va bene. Basta che mi venga qui a fare il fenomeno e dirà io di qua, io di là, voglio essere pagato così, di qua, perché io di là. Perché comunque, ok, buon giocatore, però ragazzi sono 8-9 anni che Bazzica in prima squadra ha fatto 9 gol in questi anni quindi non è un centrocampista bomber che è quello che ci serve e abbastanza quello che è Candreva. C'è Candreva magari in un anno te li fa 9 gol tra assist e gol te li fa 9 in un anno quindi insomma andare anche a togliere delle poche certezze che abbiamo ok però logicamente c'è il nostro istituto per Candreva le mina potrebbe anche andare bene però con le pinze fatemi sapere la vostra perché sono molto curioso popolo bluciocchiato mi raccomando fatevi sentire